Il disco di Newton è un disco composto da vari settori colorati e prende il nome dal suo inventore, Isaac Newton. Facendo roteare lo strumento tramite una manovella, si ottiene l'illusione che i colori si fondino in un unico colore, il bianco. La condizione richiesta è che la velocità angolare di rotazione sia tale che il colore riflesso da ogni settore permanga sulla retina dell'osservatore per meno di un decimo di secondo, in modo da non consentire la diversa percezione cromatica data dai vari colori.